Mi servono per le mie ricerche, ecco, le senti? Ma in realtà queste farabutte non abboccano tanto facilmente... Lascia che provi io, eh? Ma Paul, non ci puoi riuscire. Per pescarle ci vuole una fortuna speciale, una sorta di benedizione. Appunto. Ma andiamo, Paul, tu sei sfortunato, terribilmente... Ma no, lo ero una volta, ora sono terribilmente fortunato. Me l'ha detto una signora molto saggia, nonché molto anziana. Ma che bisogno c'è di spiegarlo? Preferisco dimostrartelo. Perché ora ti levi la giacca? Da quanto tempo stai pescando qui? Da tre ore. E cosa hai preso? Niente, niente di niente. Ehi, Paul, guarda un po', lì dentro c'è un pesce gigantesco. Su, dammi qui, dammi questa lenza. Ah, fa come vuoi. Attenzione. Uno, due e tre. Ma che cosa fai? Pesco. L'ho preso, l'ho preso! Paul! Vienilo, Paul! Non lasciarlo! Aspetta, non lasciarlo! Non lasciarlo, Paul! Beppo! Beppo, presto! Mi dia subito quel bastone! Devo stordire il pesce! Allora, Paul, hai preso questo pesce! Devo stordire il pesce!